In Sicilia urne aperte tra domenica e lunedì. Sono otto i comuni siciliani in cui il 24 e il 25 ottobre i cittadini torneranno alle urne per il ballottaggio che decreterà l'elezione dei nuovi sindaci. In altri due centri dove le amministrazioni sono state sciolte per infiltrazione mafiose si voterà per il primo turno solo domenica 24. Nei comuni con più di 15.000 abitanti dove si andrà al ballottaggio i seggi resteranno aperti domenica dalle ore 7 alle ore 22 e lunedì dalle ore 7 alle ore 14. A contendersi la carica di primo cittadino saranno a Canicattì Vincenzo Corvo e Cesare Sciabarrà, a Favara Antonio Palumbo e Salvatore Montaperto, a Porto Empedocro e Calogero Martello e Salvatore Iaco. In altre province, quella di Caltanissetta, San Cataldo andranno al ballottaggio Gioacchino Comparato e Claudio Vassallo, ad Adrano in provincia di Catania, Carmelo Pellegriti e Fabio Mancuso, a Vittorio in provincia di Ragusa, Francesco Aiello e Salvatore Salemi, a Lentini in provincia di Siracusa, Saverio Bosco e Rosario Lofaro, a Rosolini sempre in provincia di Siracusa, concetto di Rosolini e Giovanni Spatola. Urne aperte invece solo domenica 24 dalle 7 alle 23 per eleggere Sindaco e Consiglio Comunale a Torretta nel Palermitano e a Misterbianco nel Catanese. L'eventuale turno di ballottaggio a Misterbianco si terrà domenica 7 novembre nel caso in cui nessun candidato a Sindaco raggiungesse il 40% dei consensi. I risultati saranno forniti dall'Ufficio elettorale della Regione e saranno consultabili mediante l'utilizzo del programma IDEC realizzato con la collaborazione dell'assessorato regionale dell'economia e della società digitale delle prefetture della Sicilia al sito elezioni.regioni.sicilia.it. Anche la nostra emittente seguirà lo spoglio in diretta delle elezioni.